inizio a registrare questo video quando siamo a quattro minuti alla fine praticamente è passato il primo minuto di recupero di una partita che non sta perdendo la Juve sta vincendo l'Empoli la sta vincendo l'Empoli chi mi ha seguito su facebook alla fine del primo tempo avrà notato che avevo parlato di una Juve che era partita bene e che si era disunita sul primo e praticamente unico tiro in porta dall'Empoli è arrivato in maniera anche un po' rocambolesca eccetera avevo detto di difficoltà del centrocampo avevo detto di mancanza di peso in attacco avevo anche detto che nel secondo tempo sarebbero arrivati i correttivi i correttivi sono arrivati ma non si sono visti questo è il problema questo è il problema e questo è un problema perché se a Udine la partita l'ha buttata via la Juve questa sera la sta vincendo meritanamente l'Empoli e allora questo diventa un problema è diversa la chiave di lettura che si dà poi non si possono trarre ovviamente delle conclusioni definitive ma è chiaro che c'è poco da recriminare siamo a tre minuti alla fine poco o nulla da recriminare per la Juventus questa sera e questo solleva un interrogativo cosa sta succedendo che sta succedendo lì dentro si può spiegare solo con l'assenza di Ronaldo non credo si possa spiegare solo con questo certo che un uomo di peso questa sera sta mancando è in dubbio questo domani arriverà Moise Ken ma adesso non dobbiamo guardare al domani dobbiamo guardare al presente e il presente questa sera a differenza di Udine è decisamente più preoccupante perché è una Juve che praticamente nel secondo tempo adesso sto seguendo quest'azione di Kuluseski nel secondo tempo non ha praticamente mai mai tirato verso la porta e allora questo diventa diventa ripeto preoccupante a fronte di un Tempoli che ha sempre giocato il pallone che ha sempre cercato di tenere palla e di capitalizzare al meglio le occasioni che ha avuto attenzione quasi c'è stata una deviazione no non viene dato il calcio d'angolo qualche situazione un po' strana che dal punto di vista arbitrale c'è stata questa sera però non sono questi i discorsi da fare non sono questi assolutamente i discorsi da fare c'è stata una conclusione di Locatelli che è finita fuori di poco forse c'era stata una deviazione ma non mi interessa deviazione o non deviazione è il primo tiro della Juve verso la porta al minuto 93 e 20 di tutta la partita cioè o meglio del secondo tempo perché nel primo tempo c'erano state le occasioni di chiesa c'è uno sbandamento a livello mentale c'è una carenza a livello tattico e ci sono delle mancanze a livello di singoli lo avevo già notato alla fine del primo tempo l'assenza praticamente quasi l'assenza dal campo di Paolo Di Bala nella partita in cui avrebbe dovuto cominciare a sentirsi al centro del progetto e quindi avere dentro una carica particolare una carica speciale ripeto questi minuti che stanno finendo perché ormai siamo a 50 secondi dalla fine non devono portare ad una sentenza definitiva anche perché è solo la seconda giornata vedo Chiellini e Allegri parlare in questo momento e avranno molto da studiare molto da studiare nei prossimi giorni e soprattutto avrà molto da studiare Allegri mentre vedo la trepidazione che giustamente mostrano i tifosi dell'Empoli perché stanno sfiorando qualcosa di storico stanno praticamente hanno raggiunto qualcosa di storico in con pieno merito con pieno merito ha vinto l'Empoli non ha perso la Juve e questo è il dato che preoccupa adesso a caldo è difficile entrare nei meandri delle spiegazioni eccetera io ci ho provato con l'assenza di un attaccante di peso con un centrocampo carente con troppi portatori d'acqua troppi portatori di palla e mancanza di un gioco lineare troppe iniziative personali e mancanza di un gioco lineare che invece l'Empoli ha fatto vedere e arriva in questo momento il fischio che sancisce la meritata vittoria dell'Empoli di Andrea Zolli anche nella stagione 15-16 la Juventus era partita così con le prime due giornate anzi era partita pure peggio con due sconfitte nelle prime due giornate però là c'era un organico che ti faceva vedere o capire che qualcosa poteva andare in un certo senso adesso vedo Dybala a protestare con l'arbitro per un presunto rigore ci poteva stare nel primo tempo ci poteva stare per carità ma non siamo alla ricerca degli alibi questa sera ragazzi non si va alla ricerca degli alibi delle scuse la Juventus mi sembra la partita l'anno scorso contro il Benevento quando sono andati a reclamare due rigori mai perso col Benevento e riclami due rigori no perdi casa con l'Empoli meritatamente reclami un rigore no non ce n'è non ce n'è quindi adesso c'è molto da lavorare dicevo nel 15-16 c'era un organico diverso c'è molto da lavorare e i tempi per rimediare ci sono perché dopo due partite i tempi per rimediare ci sono anche se la terza sarà a Napoli con tutto il problema della nazionale dei nazionali che andranno via ma lasciamo stare poi comincerà la Champions si entra nel vivo della stagione questa sera è una sconfitta preoccupante lo dico lo dico quella di stasera giusta la felicità dell'Empoli che ha vinto sul campo della Juve non ha perso la Juve ha vinto l'Empoli meritatamente sul campo questa sera la sconfitta è preoccupante chiudo qua preoccupante non è una sentenza preoccupante vuol dire che ci sono i margini comunque per rimediare i margini tempi per rimediare ma quella di stasera a differenza del 2 a 2 di 1 è una situazione che la Juve non doveva permettere che accadesse così in maniera così netta in maniera così profonda in maniera così evidente iscrivetevi al canale ci vediamo la prossima volta le partite tra due settimane ma comunque continueremo ad approfondire il tema ciao